E ben ritrovati con Equitando.com WebRiding all'appuntamento consueto di Classos TV dove analizziamo l'equitazione anche dal punto di vista del web. Vediamo insieme quali sono gli argomenti di questa settimana. La zebra blonde, conosciamo questo binomio molto particolare. Montare una zebra non è un'impresa impossibile. Barbara Carminati, la zebra blonde, presenta il suo compagno Kenya. Annunci tutto quello che serve per l'equitazione su Equitando.com Bene, parliamo oggi di un argomento un po' particolare. Parliamo di una zebra e di una bionda amazzone. Questo binomio, oserei dire, è veramente particolare. Non potevamo chiedere con noi in studio Barbara Carminati, la componente blonde di Zebra Blonde. Barbara, è un piacere averti con noi in studio. Barbara, raccontaci così, innanzitutto perché Zebra Blonde? Zebra Blonde, Zebra, Zebra Kenya, Saloni di Zebra di 4 anni, Blonde, Barbara Carminati, insieme Zebra Blonde. Quindi diciamo che innanzitutto molto spesso nell'immaginario collettivo, non so per quale motivo, ma la zebra viene quasi sempre vista come una femmina. In questo caso invece parliamo effettivamente di una zebra ancora intera oltretutto, quindi con il suo bel caratterino. Esatto. Ecco, come siete venuti a conoscenza l'uno dell'altro? Qual è stato il vostro approccio? È stata una sorpresa, me lo sono ritrovato nel box, piccolissimo. E' stato amore a prima vista. Ecco, ma raccontaci un pochino, entriamo un pochino più nel dettaglio. Diamo soddisfazione ai nostri telespettatori di così capire anche come mai poi hai deciso di cimentarti in un addestramento. Perché insomma, tu dici, mi sono trovata una zebra che mi è stata regalata all'interno di uno dei miei box, però poi da lì che cosa è scattato per far sì che tu decidessi di provare, compito estremamente arduo, ad addestrare una zebra? Ho sempre fatto agonismo, di salto sacco, l'idressage completo, al primo grado FISE. Però ricercavo un rapporto più spirituale con il cavallo e con gli animali in generale, quello che spesso nel mondo equestre è scomparso. Quindi, meno tecnica, più cuore. Più cuore, questo è uno degli aspetti fondamentali che poi, da come abbiamo potuto vedere nel momento in cui ci siamo ovviamente informati e acculturati su quello che è stato il tuo percorso, abbiamo visto che proprio c'è questo approccio molto dolce in quello che è l'addestramento. È così? Sì, quindi l'inizio è stato con i pentors e la ricerca delle lontane praterie d'America, dei cavalli selvaggi, dei pentors e dei cavalli degli indiani comanci. Da lì poi è iniziata la ricerca verso l'Africa e quindi il cavallo d'Africa, la zebra, e prossimamente la ricerca evolverà verso l'India, gli indiani d'India, il marvari e la razza su Nucra. Quindi un percorso, diciamo, culturale, insomma, che al di là di quello che è l'approccio... La ricerca del cavallo come simbolo e non troppo come oggetto, un po' come ormai nella cultura europea. Certo, quindi come simbologia intesa come animale con cui condividere gran parte fondamentalmente della propria giornata, perché poi è così che tu riesci a raggiungere quelli che sono i tuoi... Sì, io non parlo di addestramento, parlo di love therapy, io ho una zebra per amica, è questo che voglio specificare, come comunque tutti i cavalli che possiedo. Ecco, zebra come amica, quindi hai proprio un approccio molto dolce, pur considerando che alla fin fine la zebra non è questo, diciamo, cavallo d'Africa così mansueto come ci si può aspettare, ma effettivamente ha un carattere molto forte, non è un'impresa così semplice. Il mio segreto è infinito amore, nulla è impossibile all'amore, è quello che sostengo e tutto quello che è richiesto con amore non è contro natura e quindi gli animali lo accettano più favorevolmente e soprattutto con un animale così difficile, che ne ha veramente un caratterino, soprattutto già difficile con gli stalloni, i cavalli, immaginiamoci come una zebra, chiedendo le cose con dolcezza, con semplicità, avvicinandomi come un bambino, quasi con incoscienza, a Tichinia lo monto senza redini e sella, e come scrivono sono l'unica al mondo a montare senza redini e sella una zebra, ad affrontare il fuoco. Siamo entrati in Hotel 5 Stelle per la Pfizer, con una zebra, su un grande schermo la scritta Mission Impossible, cancellata, Possible, quindi avvicinandomi come un bambino, sono riuscita a ottenere l'impossibile con Kenya. Ecco, come un bambino e come i bambini che abbiamo visto a Fiera Cavalli, insomma, a Verona, perché effettivamente Zebra Blonde, quindi Barbara Carminati e la sua zebra Kenya, per la prima volta quest'anno presenti a Fiera Cavalli, eravate all'interno del villaggio del bambino, quello che è stato scelto. Esatto, esatto, proprio come simbologia è stata scelta quella di posizionare il vostro stand all'interno del villaggio del bambino, proprio perché sia la tipologia di monta, sia l'approccio, che come ci hai confermato, è l'approccio che deve fondamentalmente avere un bambino, quindi un qualcuno che si avvicina per… La simplicità, la spontaneità, la sincerità, la tenerezza. Sono i principi della love therapy, quella che sostengo, che non è niente di nuovo, però spesso ce lo dimentichiamo nel mondo equestre. Certo. Tutti ormai pensano al punteggio, salire sul podio e si dimenticano del cavallo. E quello che voglio sottolineare è che un cavaliere senza il suo cavallo non è nulla. Assolutamente, e questo è molto importante. Quindi continuare e non dimenticarsi mai che alla fin fine il risultato lo si raggiunge in due, perché altrimenti che binomio può essere. Bene, io direi che in questo momento possiamo passare a quella che è la seconda parte di Equitando.com Web Riding e andare a vedere insieme che cosa il web ci propone relativo a Zebra Blonde. Quindi, ovviamente, partiamo da quello che è il sito ufficiale di Zebra Blonde, quindi zebrablonde.it e qui abbiamo veramente la possibilità di trovare tutte le informazioni possibili ed immaginabili relativi a Zebra Blonde, in questo caso alla Love Therapy. Infatti possiamo trovare e sfogliare quello che è un manuale scritto proprio da Barbara Carminati sulla Love Therapy, ovvero come riuscire a ottenere questi risultati per i più definiti quasi impossibili. Quindi abbiamo un po' tutta una serie di informazioni, non solo relativi alla Zebra Kenia, ma anche a quelli che sono le restanti comunque attività di Barbara Carminati. Si parlava prima di quello che è stato il suo approccio con i Painters, quindi Beautiful Time. E' stato il campione europeo sottolineo. Esatto, che fra l'altro è stato il campione europeo di morfologia. Morfologia, Western Pleasure, English Pleasure. Perfetto, quindi ha vinto un po' tutto quello che c'era. Comunque mi interessa anche all'agonismo, non è che sono completamente fuori da questo... Perfetto, ovviamente perché tu vieni dall'agonismo, insomma dietro c'è un background e un know-how legato a quello che è l'agonismo. E così anche per, immagino per Dedalo e Fatina, insomma che in questo caso parliamo di dressage. Il cavallo che ha partecipato ai campionati europei Young Rider. Perfetto, azzurra e Estra e Zebra Boni invece sono dei fili d'arte, potremmo definirli così. Infatti la tua splendida bambina... Ho partecipato all'eponia di 2008, con ottimi risultati. Esatto. Quindi abbiamo fatto dell'agonismo anche in un modo anche per poi con lo show, per giocare con i cavalli, per divertirsi insieme. Ecco, e questo è l'aspetto molto importante, quindi non solo l'agonismo ma anche divertimento, cioè il cercare sempre e comunque un approccio dolce, ma un approccio che possa dare la soddisfazione di giocare effettivamente con i propri amici e i componenti del binomio stesso. Ecco, ovviamente c'è la possibilità sul sito di Zebra Blonde poi di andare a vedere tutta una serie di immagini e video riguardanti appunto le attività della Zebra Kenya. A tal proposito andiamo su ovviamente l'immancabile YouTube dove troviamo questo video, Zebra Kenya playing with Zebra Blonde. Quindi come la dimostrazione di quello che si diceva prima, appunto di come si può giocare insieme con fondamentalmente un animale selvaggio, insomma, perché non dimentichiamoci che la zebra è a tutti gli effetti un animale selvaggio. Non poteva mancare quello che è il gruppo di Facebook di Zebra Blonde Barbara Carminati dove vi invitiamo ovviamente a iscrivervi e è quello che è stato, si parlava prima appunto di quello che era la presenza di Zebra Blonde e quindi della Zebra Kenya alla Fiera di Verona che è stato un po' un evento particolare. La prima zebra in 113 anni di storia, possiamo dirlo davvero, qualcosa di davvero incredibile. Esatto, esatto, il cavallo d'Africa finalmente approda. Il mio sogno è realizzato e anche quello di altri perché veramente c'era una moltitudine di gente, ringrazio tutti. Bene, bene, infatti l'arena.it, la zebra Kenya incanta i bambini e dà una lezione d'umanità agli adulti. Questo è bellissimo. La chiamano cavallo d'Africa e come tale non poteva mancare a Fiera Cavalli, è una zebra all'ospite dell'onore del Salone del Bambino 2011. Un bellissimo articolo che invito veramente tutti a leggere e così a riuscire in autonomia a reperire sul web tutte le informazioni su questo binomio. Io direi che in questo momento possiamo dare spazio a quella che è la pubblicità, noi ci troviamo tra qualche istante. A presto.